Il monumento posto anni fa dall'Anmil a Campobasso ha da qualche giorno al suo fianco un albero di Natale davvero speciale perché è formato dai caschi di protezione che usano gli addetti all'edilizia. La sua presenza ha di fatto aperto una qualche riflessione sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e della formazione dei lavoratori. Un monito ma anche un richiamo all'attenzione particolare a quella che è tutta la partita della sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi come scuoledile essendo anche CPT, Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni sui luoghi di lavoro facciamo molto, anzi riteniamo di fare molto e speriamo di farlo bene. Purtroppo però non riusciamo mai a sensibilizzare tutta la platea sia dei lavoratori sia degli imprenditori sotto l'aspetto della formazione. Oggi l'Anmil ci ha chiesto di contribuire alla realizzazione di questo albero di Natale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci sono dei riferimenti ben precisi, ci sono dei caschi neri che indicano proprio il rischio e la pericolosità in modo particolare nel nostro settore che è quello dell'edilizia ma anche negli altri settori, l'agricoltura e poi man mano anche gli altri. Sicuramente l'associazione è molto sensibile a questo e attraverso la scuola edile del Molise cerca di formare il personale delle imprese. chiaramente gli infortuni sul lavoro vanno ridotti, assolutamente, e la formazione è alla base di ogni attività. Ripeto, l'associazione è molto sensibile quindi andremo avanti con questo fronte di formare, formare e poi formare ancora il personale. C'è sempre da migliorare perché gli errori si commettono, nel Molise riusciamo a gestire in maniera sensibile questa situazione, però è chiaro che bisogna sempre tenere gli occhi aperti, bisogna essere molto attenti ma soprattutto bisogna formare. grazie grazie Grazie.